carissimi amiche carissimi amici buongiorno buongiorno dal vostro caro giocherellone vostro grande amico il vostro grande streamer colui che vi porta ogni gioco ogni gioco ogni giorno con titoli sensazionali titoli incredibili e oggi voglio portare ragazzi pensate un pochettino un grande titolone al mio caro amico alessandro arcano di grande amante di giochi di pallone pensate un pochettino stiamo parlando di fifa soccer 97 in versione super nintendo va bene signori iniziamo a parlare che dicendo che ovviamente questo titolo calcistico rappresenta rappresenta sempre praticamente una forma bidimensionale ragazzi del 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 gioco appunto del calcio andiamo a fare una mitosco squadra la mitica squadra del napoli voi sapete io sono napoletano ecco qua vogliamo vedere un attimo se possiamo andare indietro praticamente voglio 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 tornare indietro praticamente voglio vedere un attimo no voglio uscire praticamente voglio uscire vedete un pochettino vado a uscire torno praticamente andiamo sempre a fare la mitica amichevole siamo pronti ovviamente all'aperto scegliamo all'aperto al chiuso andiamo a scegliere ovviamente un settore qui italiano quindi andiamo a prendere praticamente il napoli ecco qua e cambia colonna con a ecco qua scegliamo sempre il settore ovviamente italiano facciamo napoli contro ovviamente milano guardate qui la grande grande il grande milan ovviamente quasi in difficoltà qui possiamo scegliere dove giocare possiamo addirittura assistere alla partita perfetto andiamo a giocare contro il milan computerizzato iniziamo subito a giocare andiamo bene per la nostra formazione siamo pronti con questa grandissima squadra ragazzi guardate qui la grafica veramente bellissima soprattutto per i tempi il grande napoli il grande napoli passa mamma mia ragazzi immediatamente il napoli ha qualche difficoltà il napoli ha qualche difficoltà vai la pigliare vai la pigliare vedete abbiamo un tasto praticamente qui sopra vai subito ovviamente a prendere intercettare intercettato intercettato ragazzi qui è difficile qui è difficile veramente mamma mia ragazzi i controlli sono quelli che sono praticamente sono quelli che sono sono quelli che sono subito a napoli mi viene mostrato il nome dei giocatori perché ragazzi perché tu vai subito mamma mia il grande portiere il grande portiere che rinviare un rinvio molto particolare dobbiamo dire la verità andiamo a cercare di quest'altra parte qui e ovviamente ovviamente ci spostiamo ci spostiamo oh mamma mia signore attenzione grande portiere la grande carica al portiere ovviamente che va qui sopra a cercare vedete ragazzi di inserire una grande rimessa col pallone il grande napoli immediatamente subito intercetta la palla intercetta la palla e il grande scivolata scivolata e kickster ecco qua incredibile questo è un grande colpo mentre si guardate qui intercetta il pallone ovviamente va a cercare di passare e no non ce la fa ragazzi non ce la fa il grande la palla dentro alla rete ragazzi guardate il replay purtroppo il napoletano praticamente non riesce a diciamo a buttare la palla ovviamente siamo 1 a 0 1 a 0 per il mila ragazzi passa passami la palla ovviamente grande ovviamente colpo ovviamente lui butta fuori quasi 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 ovviamente impaurito impaurito vedete un pochettino va a fare una bella rimessa vai su qui sopra a provare lui perfetto immediatamente vai a cambiare cambiare giocatore ok perfetto perfetto ce la stai facendo ce la stai facendo tutto è veramente incredibile il mila incredibile il mila questa parte qua ragazzi vado ovviamente a passare ovviamente subito la palla ragazzi questa parte quella è grande il grande artista il grande artista il grande artista il grande artista non riesce non riesce ragazzi a intercettare il pallone grande fallo al portiere grande tiro che ci prova ci prova lui ci prova a tiralo ecco qua mamma mia G plus 11 giocheri errore ma no non si può giocare a FIFA era orrendo era orrendo è vero era orrendo non era a livelli dei giochi però un computer G plus 11 per esempio voi sapete ragazzi G plus 11 è un ragazzo è un ragazzo che pensa che ha sempre pensato praticamente ragazzi di nascondere la sua identità ma noi sappiamo che G plus 11 è il nostro caro amico nostro caro amico ovviamente guarda il pallone starato sperico vai subito vai subito G plus 11 immediatamente lo infila no traversa mamma mia G plus 11 G plus 11 G plus 11 voi sapete ragazzi G plus 11 ha sempre cercato di nascondere la sua grande identità ecco qua la sua grande identità ma noi lo sappiamo che lui è un grande amante dei giochi di on computer infatti giustamente dice giocheri ma non mi puoi portare FIFA Soccer non mi puoi portare FIFA Soccer perché questo perché questo grande G plus 11 vedete ragazzi perché G plus 11 è un amante dei titoli per on computer che sono forse anche quelli più bellini dobbiamo dire almeno fino a quando non è uscito International Superstar Soccer ovviamente perde la mitica Konami G plus 11 passa ovviamente il gioco non deve assolutamente giocare al sensible Soccer logo certo lo conosco il sensible Soccer e i suoi data disc caro G plus 11 perché non credere non credere non credere avete avete visto a tenere troppo la palla in mano ragazzi più che altro al piede ecco qua immediatamente vado a cercare di rimettere ovviamente questa parte qua guardate come un pochettino qui sopra cosa sta succedendo è il caro G plus 11 carica al portiere carica al portiere non fare così non fare così buttalo ovviamente alla quest'altra parte qua un gioco veramente che ha una difficoltà una difficoltà proprio a farci capire come si gioca ovviamente a pallone guardate proprio in faccia dei testicoli i giocatori qui si toccano spesso si toccano le palle nel senso si toccano i palloni praticamente andiamo qui sotto a interagire praticamente vedi un po' G plus 11 ecco qua veramente assurdo qui Napoli Milan G plus 11 qual è la tua squadra del calcio preferita dimmi un attimo qual è la tua squadra del calcio preferita attenzione ovviamente il Napoli il Napoli che chi è Maradona Maradona è arrivato in Maradona è meglio per lei qual è quale giocherino dice ah dice ah meglio dire ah che dice B plus 11 ovviamente cerca immediatamente qui ragazzi dovrevo fare devo fare una cosa con tutti i nomi ecco qua con tutti i nomi dei vostri amici praticamente dobbiamo editare il file giocherino non segue il calcio lo so però ci giocavi ci giocavi un pochettino come me non seguivi il calcio ma ci giocavi ma che corso è veramente assurdo ci giocavi un pochettino a calcio dobbiamo dire la verità caro G plus 11 lo so lo so lo so attenzione alla grande rimessa rimessa o auto rimessa nel caso ovviamente voi possiate ma a me ragazzi guardate questi grandi colpi il portiere va immediatamente a rimettere un pallone vedete ragazzi da quest'altra parte qua e subito ovviamente fine metà tempo half time half time caro G plus 11 andiamoci ovviamente a pettinare giocherino fra poco taglierà i suoi capelli pensa un pochettino perché ovviamente ormai il freddo sta passando e quindi i capelli vanno tagliati andiamo subito a riprendere il gioco caro G plus 11 grande amico di sensible soldier che andiamo amante dei videogiochi degli on computer gli faremo vedere a G plus 11 di tutte di piazza e subito ovviamente devi cercare tu qui sopra di inserirti ovviamente in questa parte qua guarda G plus 11 la mia squadra perfetta era la new team e allora dopo i giochi di Ello e Benji i giochi di Ello e Benji per G plus 11 ragazzi voi sapete che G plus 11 con la sua col suo grande amore praticamente per i giochi per i videogiochi pubblicità pubblicità paparapapapapapa ecco qua il grande bombolone di autorimessa immediatamente di autorimessa di rimessa praticamente pensate pochettino 1 2 1 minuto e 3 e di la twitch di la twitch caro G plus 11 caro G plus 11 ma che cosa ci possiamo fare purtroppo il social network e il rosso e quindi giustamente e quindi giustamente che cosa va a fare e cosa va a compiere giustamente a cercare di fare incassi ecco qua amazon non se lo vuole vendere per quale motivo perché giustamente poi dopo va a finire che qualcuno lo compra e ne ricava di più quindi non sappiamo ovviamente cosa starà cosa succedendo infatti molte persone subito G plus 11 inserita all'interno di questa cosa mamma mia ragazzi vedete un pochettino ecco qua il grande portiere nero è un portiere un po un arbitro dobbiamo dire la verità dobbiamo ce la dobbiamo fare dobbiamo cercare di inserirci praticamente all'interno di questa grada addirittura il fallace colpo il fallace colpo ragazzi qui sopra andiamo immediatamente subito a prendere praticamente la nostra palla andiamo a passarla praticamente al nostro grande a grande amico ecco qua e quindi immediatamente subito mamma mia ragazzi subito andiamo ovviamente a questa parte qua colpo ovviamente volante volante verso quest'altra parte qui e vedete un pochettino che cosa sta accadendo che cosa sta accadendo da questa parte qua incredibilmente ragazzi subito ovviamente il colpo ovviamente sulla traversiella sulla traversiella proprio G plus 11 che si vede le pubblicità ma se hai amazon prime ti conviene abbonarti perché non paghi niente e ovviamente non eviti di vedere le pubblicità veramente qualcosa di incredibile caro G plus 11 ovviamente G plus 11 rieccomi è tornato G plus 11 G plus 11 passa a marco carnevale marco carnevale passa a critichella che sarebbe sempre se stesso lui praticamente come potete vedere addirittura Keterville 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 Valerio Keterville Valerione praticamente il valerione palla al centro ovviamente mi entra all'interno non ho soldi a regalare purtroppo no e no con un amazon prime se hai amazon prime non paghi e questo è il bello non non paghi questo è bello tu con amazon sei amazon prime praticamente non lo so se lo hai ovviamente se lo hai non paghi la sub praticamente questo è il bello non hanno scusami non lo sapevo non era nulla da dirti di chiederti i soldi però lo dicevo perché molte persone spesso hanno amazon prime e non sanno che in realtà hanno la possibilità di avere un sub ovviamente un abbonamento praticamente gratuito dove ovviamente così evitano di vedere le pubblicità su un determinato canale lo streamer ci guadagna praticamente 50 centesimi o 60 centesimi al mese e mentre invece mentre invece ovviamente ovviamente voi evitate di vedere le pubblicità lo stesso lo pagate quindi tendenzialmente questo è l'ha fatto non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ha non ce l'ha guarda il replay caro G plus 11 con questo mitico fifa che effettivamente mi appare molto molto ingiocabile infatti molto idolatrato soprattutto nei confronti caro G plus 11 di coloro che non conoscono il gioco del calcio grande grande vado qui sopra a prendere dal pallone G plus 11 devi farti un sito con le live senza pubblicità un sito solo per me per le live senza pubblicità e ho capito però la problematica questo una cosa del genere lo può fare lo può fare chi ha veramente milioni di follower quindi può gestire la propria attività per i fatti propri ecco qua io un pochettino ci pago un pochettino anche le spese della connessione delle connessioni ovviamente a casa ovviamente grande G plus 11 guarda qui che cosa è successo guarda te lo sei chiamato il tuo angelo è arrivato quindi subito testa dentro attoccando il pallone e subito ovviamente 1 a 2 1 a 2 molto bene rimonta ovviamente napoletana rimonta napoletana ragazzo napoletano qui sotto vai subito a prendere ovviamente il pallone andiamo a prenderci ovviamente questa altra parte qua vedete un pochettino cosa sta succedendo veramente assurdo veramente il grande portiere grande portiere no appena arrivato appena fatto praticamente forse anche proprio un autogol belle le animazioni bello anche l'animazione del pallone però non ci siamo un punto di vista della giocabilità veramente veramente in surso ragazzi non riesco a capire come mai praticamente questo gioco come dice G plus 11 ha venduto così tanto veramente un gioco ingiocabile con un'inerzia praticamente dei giocatori veramente assurdo certo per 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 dire praticamente dove è arrivato praticamente questo gioco dobbiamo anche riferirci ai dati commerciali praticamente di prodotti come questo dati che non sono stati pochi oltretutto è già dal fifa mi sembra 95 o 96 il gioco di fifa nelle versioni a 32 bit veniva portato con una grafica tridimensionale ecco qua e quindi e quindi possiamo capire tante cose possiamo capire tante cose che in realtà cioè venivano fatte più versioni praticamente più versioni del del videogioco del videogioco va bene ragazzi che dirvi molto bello graficamente però su questo non ci piove migliorato tantissimo animazioni del pallone fifa 98 è il top del secolo il top del secolo va bene io quasi quasi mi rifarei anche un'altra partita G plus 11 giusto per portarci in un amichevole dimmi la tua squadra la tua squadra preferita già caro G plus 11 soprattutto gioco tutto in italiano avete capito bene quindi un pochettino vediamo la cerchio potenza orologio cronometro tipo di campo suono musica ed effetti perfetto non mi vengo cosa sta succedendo qua ogni mano dici la tua squadra preferita caro G plus 11 dici la tua squadra preferita facciamo un amichevole questa volta vi faccio vedere l'amichevole al coperto pensate un pochettino al coperto o con il coperto praticamente andiamo qui sopra carnazzone mi piace nel pallo lo so ecco qua vediamo dice G plus 11 sì tempo fa ci facevo giochi in italiano ci facevano certo poi ovviamente hanno visto che si piratava tutto e non hanno voluto più fare niente scegliamo la squadra di Marco Carnevale scegliete voi le squadre ragazzi del campionato ve lo faccio vedere guardate la Cremonese guardate la potenza della Cremonese veramente assurdo la Fiorentina altissimo livello Interpol e Juventus fortissima Napoli Padova Parma chieditemi ragazzi ditemi voi le squadre che volete vedere e ve le farò vedere ovviamente aspettiamo Marco Carnevale aspettiamo G plus 11 ma aspettiamo anche ovviamente tutti gli altri amori guardate i miti con la Cremonese ragazzi new team new team non c'è non c'è però mi ricordo che già al tempo andavano ad editare pensate un pochettino le squadre di calcio in giochi così soprattutto in International Superstar Soccer vediamo un pochettino ragazzi vediamo un pochettino aspetto ovviamente le vostre le vostre squadre le vostre squadre preferite intanto che me lo dite ovviamente io sono qui ragazzi fatemi sapere Marco Carnevale che squadra vuoi che prenda da giocare G plus 11 dimmelo tu c'è la mia Muppet no la Muppet sono i pupazzi pretende quello che si chiara un gioco allora ragazzi io piglio la mitica Juventus contro la Germania ragazzi avete capito bene Juventus contro tutta la Germania quello si chiara un gioco il gioco dei Muppet ecco qua forza Cremonese forza Cremonese ecco qua la Cremonese e la squadra di calcio preferita da Marco Carnevale qui ragazzi andremo a giocare al chiuso la Germania contro la Juventus sarà un gioco veramente incredibile guardate che gioco il giochettino vai subito a prea incredibile noi giochiamo praticamente al chiuso ragazzi al chiuso e subito subito i tedeschi vanno a prendere per elevare la palla ragazzi guardate i tedeschi hanno qualche grande difficoltà ragazzi no non ci siamo proprio non ci siamo proprio andiamo qui sopra guardate un pochettino che fa rimballo rimballo di palla vedete un pochettino il ragazzo il ragazzo qui sotto guardate qui sopra ancora lui praticamente cerca ovviamente di giocare di buttare che cosa fa che cosa va a fare praticamente vedete un pochettino qui sopra che cosa ancora lui praticamente no ha qualche difficoltà qualche difficoltà logica dobbiamo dire la verità vedete un pochettino cerca di prendere la pallone e allora lui ancora ancora va a rimettere ragazzi che gioco che gioco che gioco di che gioco bello che gioco bello veramente un gioco bello veramente dove questo mi continuo a tirare palla ovviamente volante ragazzi guardate G plus 11 ovviamente dice diciamo che questo FIFA ha tentato di portare il 3D nel 2D con il suo isometrico alla fin fine caro G plus 11 certo il suo isometrico ha cercato il grande FIFA di portare la grafica 3D che poi in realtà ti ho detto già mi sembra che il FIFA 95 veniva già portato ragazzi io umiliato da questo gol non posso che continuare che dirvi un titolo abbastanza mediocre sul piano della giocabilità cosa più importante ovviamente in ambito videoludico ma soprattutto diciamo bellino su piano grafico simpatico anche che si giochi ovviamente al centro al centro si giochi anche al chiuso va bene signori gli diamo un 4 ecco qua mi dispiace veramente poco poco giocabile e per il resto ragazzi se non siete iscritti al canale giocherellone iscrivetevi youtube e twitch sono i principali social network del giocherellone per il resto trovate gli altri nel box informazioni con discord del grande Alessandro Arcangeli e le sue grandi fantastiche news per il resto grande delusioni per FIFA poi porteremo il sensibile socio saluto Gplus11 saluto Marco Carnevale e ci vediamo tra due minuti con un altro videogioco proprio per te che stai guardando